Cosa ha rappresentato una giornata come questa in onore di Cannella? Ha rappresentato una puntualizzazione sulla situazione della scienza dell'alimentazione oggi in Italia. L'introduzione, il motivo era ricordare Carlo Cannella, ben noto diciamo in Italia a tutti, fuori e dentro il mondo accademico. Un'altra finalità è quella di ripontualizzare e rivalorizzare la scienza dell'alimentazione programmando anche per il futuro altre attività, sempre allo stesso livello al quale sono state effettuate fino ad oggi.